Una digitalizzazione che oltre ad essere fondamentale per la conservazione e il monitoraggio dei beni artistici può servire anche alla loro valorizzazione, promozione e fruizione turistica. Sono stati presentati stamattina online dal Rettore del Nobile Collegio, Professor Vincenzo Ansidea di Catrano, i risultati del progetto per la conservazione preventiva e programmata dei beni artistici del Collegio del Cambio, una delle stanze fatate di Perugia, come l'ha definita Francesco De Pretis della Fondazione Cassa di Risparmio, che ha sostenuto economicamente il progetto per oltre il 70%. Un lavoro di digitalizzazione 3D affidato ad Archimede Arte, durato due mesi e mezzo circa per un importo di 23.000 euro. I sette operatori specializzati coinvolti hanno attuato rilievi topografici del luogo, spugliandolo dalle suppellettili e rilevandone accuratamente lo stato di conservazione anche tramite termoscanner. Questa mappatura precisa e moderna, oltre a permettere il monitoraggio dello stato conservativo delle numerose opere d'arte e degli arredi linei, sarà molto importante anche a fini divulgativi, promozionali, turistici e didattici del luogo, con i tour virtuali ad esempio, oppure per la conservazione di informazioni importanti in caso di calamità naturale.